Una tragedia colpito Gallarate nel Varesotto dove un uomo e sua moglie entrambi settantenni sono stati ritrovati morti nella loro casa dal figlio venerdì 5 aprile. Si sospetta si tratti di un omicidio suicidio ma le autorità devono ancora confermare i dettagli dell'accaduto. Secondo le prime indagini sembra che l'uomo abbia ucciso la moglie prima di togliersi la vita nella loro abitazione. I carabinieri stanno conducendo le indagini sotto il coordinamento del pubblico ministero Susanna Molteni. Al momento si esclude l'intervento di terze persone nell'omicidio dei coniugi. La data precisa della morte risale a diversi giorni prima del ritrovamento. Le cause e il possibile motivo dietro questo tragico evento restano ancora sconosciuti.